La veneziana Giovanna Epis è comunque nella storia. Lei è l'unica azzurra ad aver partecipato alla maratona femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Ha chiuso al 32esimo posto lontano dal podio, ma su 88 atlete, con il tempo personale di 2 ore 35 minuti e 9 secondi a 7 minuti e 49 dalla Kenyota Perez, medaglia d'oro. Tutta la Venezia Runners atletica Murano l'ha seguita con trepidazione davanti alla tv. Ha entusiasmato tutta la città e in particolare il nostro gruppo sportivo. Una maratona disputata in condizioni ambientali difficilissime a causa del gran caldo e di una umidità fortissima. I tempi personali di tutte le atlete perciò non sono stati altissimi, molti i ritiri. Giovanna invece è riuscita stoicamente a concludere la gara. Un straordinario e prestigioso risultato che è testimonia, passione, spirito di sacrificio e talento che dà lustro e fa onore all'intera comunità veneziana e in particolare appunto alla nostra società nella quale è cresciuta riportando importanti titoli nazionali sotto la guida del nostro tecnico federale Luciano Bullo. Poi un doppio incitamento dal latino al veneziano. Ad mai ora sempre e come si dice da noi duri i banchi, giò. Grazie. 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 Grazie.